Ieri pomeriggio, giovedì 18 maggio, i carabinieri della stazione di Lainì, in collaborazione con la Polizia Municipale, i colleghi del Comando Carabinieri Forestale di Collegno hanno denunciato per traffico illecito di rifiuti e invasione di terreni un ucraino di 28 anni, autista, residente in provincia di Caserta. L'autista del tiro ha scaricato a Lombardore, in via Torino Poligono, in aperta campagna, in un'area destinata ad uso militare, 210 quintali di rifiuti urbani pericolosi. Un cittadino ha visto il tiro e ha segnalato il numero di targa ai carabinieri. L'uomo è stato rintracciato al telefono mentre viaggiava verso Milano e con un espediente è stato convinto dai militari a ritornare verso Lombardore. Lei ha urtato una macchina con il suo tir e deve ritornare per compilare i moduli. L'autista è tornato indietro ed è stato denunciato, multato e obbligato a ricaricare rifiuti sul tir. La collaborazione del cittadino è stata fondamentale. Segnalare ogni situazione sospetta è il miglior contributo possibile per rafforzare la sicurezza. Sì, eccoci, eccoci.